Un caro saluto a tutti, sono Geshe Ciampagelek e vorrei presentarvi Mind Training, la ghirlanda di gioielli per il Bodhisattva, una serie di appuntamenti sul Lojong che si tengono all'Istituto Lama Tsongkapa con cadenza mensile. Il testo che prenderemo in oggetto contiene 101 sezioni. Di queste 101 sezioni ce ne sono alcune che sono state insegnate da Atisha e da molti altri maestri, compresi i suoi tre maestri principali, Ser Limpa, Dharma Rashita e Jan Peneljor. Uno di questi è chiamato Lojong, addestramento mentale per modificare il nostro modo di pensare. La ghirlanda di gioielli che è stato insegnato da Atisha stesso è il testo che studieremo durante questi incontri di fine settimana. Quindi Lojong, la parte di addestramento mentale, è un argomento fondamentale. Infatti ciò significa addestrarci nello sviluppo di Bodhichitta. Nell'addestramento delle tecniche di Bodhichitta ci sono due metodi. Un metodo è quello di scambiare se stessi con gli altri. L'altro è quello dei sette precetti o sette fasi di cause ed effetti. Tutti noi vogliamo la felicità e non vogliamo la sofferenza. Le sofferenze possono essere sia di natura fisica che mentale. Le sofferenze fisiche si originano da fattori esterni. Invece le sofferenze mentali si originano dai nostri pensieri. Così è detto nel testo Abhidharmakosha. Per familiarizzare con questo addestramento mentale è necessario ascoltare molti insegnamenti e riflettere sugli argomenti ascoltati. Successivamente bisogna cercare di meditare su questi argomenti. Più si ascoltano gli insegnamenti e maggiormente si può riflettere. Più si riflette e meglio si può meditare. Perché esistono molti tipi di meditazione e molti modi di meditare. Inoltre, quando si ascolta, si riflette e si medita molto la mente cambia, diventa positiva e spaziosa e si diventa più felici. Con questa pratica anche una persona con una natura molto rabbiosa diventa più pacifica. occorre quindi meditare cercando di sviluppare la concentrazione in cui ci si isola dalle distrazioni. In questo modo ci si allontana dai pensieri inutili e la mente dimora nella felicità. Per questo la pratica di addestramento mentale diventa molto importante. Esiste infatti il termine shinè che vuol dire calmo dimorare che ha il significato di una mente che rimane calma. Più la persona è pacifica e sviluppa altruismo più questo porta beneficio a lungo e a breve termine. Se una persona è più felice crea energia positiva anche nelle persone intorno a sé. Tutte queste diverse sezioni di addestramento mentale come la ghirlanda di gioielli sono fatte quindi per domare controllare la nostra mente con la spiegazione di come si deve meditare. Tutti noi desideriamo essere felici e non vogliamo la sofferenza. Meno afflizioni abbiamo e meno abbiamo pensieri negativi. Al contrario se ci sono molte afflizioni e molti pensieri negativi avremo molti più problemi a livello esteriore e interiore. Questa è la motivazione per cui Lojong è molto importante per la nostra vita. è una cosa che si è 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 lojong che è becchia per fare che si è che si è Grazie.